Ferre, la vuoi vedere? È una magia? Sì, certo! Ok, allora, abbiamo un blocco di diamante classico È ok, niente di strano Abbiamo un piccone con un enchant E anche qui non c'è nulla di strano, no? Dipende da che cos'è l'enchant, però Beh, l'enchant è qualcosa che fa, diciamo, avere un po' di fortuna al nostro caro amico piccone Ah, ok! Però, vuoi sapere quanta fortuna ha questo piccone? Sì, ovviamente È lì la cosa speciale È attirato la mia attenzione, Steph, quindi certo, mostra Allontanati un po' Ok Pranta? Sì Guarda Allora, aspetta Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove Stack da 64, Steph! Lo so Siamo pazzi! Puoi diventare ricco con questa fortuna Siamo ricchi, Steph! Fortuna mille nel piccone, non aggiungo altro Eh ragazzi, come va? Allora, prima di tutto torna la nostra fantastica mod che ci permette di trovare i diamanti Però questo oggi non è il fulcro della sfida perché ci servirà semplicemente a trovare un po' più facilmente i diamanti perché altrimenti la finiamo due ore a girare e non troviamo nulla Anche perché poi ce ne serviranno tanti Esatto La sfida funziona così Qua nella nostra chest abbiamo quattro diamanti diversi Il primo a fortuna 5, il secondo 25, il terzo 100 e il quarto 1000 Noi possiamo prendere questi picconi soltanto quando raccogliamo lo stesso equivalente della fortuna in diamanti Quindi se io trovo 5 diamanti con il piccone normale di diamante Ok Li butto qui, mi prendo il piccone con fortuna 5 Quando arriverò a 25 diamanti, li butto qui e mi prendo quello da 25 Il particolare è che questi diamanti che noi usiamo per acquistare, tra virgolette, il piccone più fortunato Non conteranno alla fine dei 15 minuti per i diamanti totali che io e Ferri avremo Questa miniera, io ti ho chiesto di farla, ma l'hai fatta davvero bene Non l'ho fatta io, Steph Non riconosci lo stile di costruzione, scusa? Beh, no, è una bella miniera, questo l'ho notato Infatti sono stupito che tu l'abbia fatta così bene e con così tanta cura Ti ricorda qualcosa, Steph? Beh, cioè, tu l'hai disturbato in un video in cui lui non c'entra nulla per fare il lavoro che io ti avevo chiesto di fare a te Tu mi hai fatto vedere un assistente, cioè che più assistente è uno schiavo Che ti permette di fare tutte le cose più scomode di Minecraft Quindi io l'ho messo, sono rimasta proprio bella seduta a guardarlo E lui ha scavato fino alla bedrock Io l'avevo chiesto a te Senza chiedere nulla Senza chiedere nulla Io però ho fatto un'altra cosa molto importante, Steph Ho messo le torce, ho messo la luce Questo l'ho fatto io Io avvio il timer Ciao, io vado, ciao, Steph Ti potrei anche attaccare in questo momento Corro, corro, corro Io per ora provo ad andare nell'altra direzione Va, così magari evitiamo di fare una sfida a colpi di spada Ok, aspetta, si sta attivando Il mio ha già trovato qualcosa, te lo dico Trovati, trovati Stai scherzando Ha funzionato, ha funzionato Due, ne ho due Tre Guarda, Steph, che rosica Ok Sei a tre? Quattro, cinque Aspetta, però li prendo tutti Se puoi già comprare il piccone Sei Sette Oh, è una bella fonte questa Ne ho trovati otto, Steph Anzi, nove, nove, scusami, nove Corro indietro Non ci credo Eh, mi dispiace No, no, li ho ritrovati, Fede Mi ha giocito, te lo giuro Non è possibile Forse ho già riaggiato a Fortuna Ok Allora, cinque Quindi mi prendo quello da Fortuna 5 Perfetto Gli altri me li tengo Credo di aver scoperto una cosa di questa bustola Che mi terrò per me stesso Giustamente, Steffi Quattro che mi avanzano Ti dico chiaramente che me li tengo Perché Ne ho trovati nove Cinque li ho messi Quattro mi avanzano Ne hai trovato anche tu No Perché ho visto che hai fatto l'achievement Guarda che mi avvisa il gioco Che hai fatto l'achievement Non li ho trovati, cara mia Non mi freghi Ok E mi sa che io, dato che non sono Ferinichi Con la più fortuna del mondo incredibile Gli ho trovato sei Non nove Ma io non sono mai fortunata Quindi c'è No, no, ma che Mi è andata bene stavolta No, ma che Non è una fortuna lei Allora, aspetta, aspetta Qui mi stava assegnando Questa dannata acqua Qua mi dà fastidio Dobbiamo cercare di sistemarla Comunque dicevo che io prima ho scoperto Una cosa della bustola molto interessante Che non ti dirò mai Non te lo dirò mai E lo potrò sfruttare a mio vantaggio Secondo me No, dimmelo A lungo termine mi dà vantaggio Dimmelo No, 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 no A te Ok Ok, esploso, ho sentito, Steph, ho sentito Allora Mi dispiace Ok, quindi lascio 5 diamanti qui Mi prendo il fortuna 5 Butto via il piccone normale E torno di sotto Ma secondo te questa delle gemme segna anche la redstone? No No, sicuro Lapis razzuri, diamanti e esmerati Quindi gemme, gemme, ok Sì, 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 sì Mi sto segnando qualcosa, ma è da dovere che scavo e non sto trovando niente Ok Vado di qui, vado di qui Il discorso che in base all'estetica della lancetta ti segna il minerale, nello specifico, cara mia Ah, quindi blu lapis, ok, ok Non so fino a dove mi vuole far scavare il gioco, ma mi sta dicendo che in profondità Oh Che hai trovato? Un passaggio Come un passaggio? Eh sì, ho trovato un altro posto Trovati altri! Fortuna, fortuna, fortuna Vediamo quanti me ne dà Vediamo quanti me ne dà Non ci credo Ah, però era povero, ho trovato solo due blocchi Ok Dove sono finiti i miei democchi? Ah, sono tornata a nove, quindi me ne ha dato davvero pochi È stata un po' una sfortuna Ne avevi tre? Ne avevo quattro, me ne sono avanzati perché cinque li ho messi Quindi su due ne hai trovato cinque? Sì, 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 sì Beh, comunque non è male Uh, altri però, ce ne sono altri qui vicino Aspetta, aspetta Io non ci posso credere Uh, ok, sì che ne sto trovando tanti ora Tanti secondo me sta andando molto molto meglio Farei arrabbiato, ma per mia fortuna sono vicino anche io, quindi sono abbastanza tranquillo Stanno qui sotto Oh, salve! Ma che bel diamantino che ha trovato Steph Allora, siete pronti? Io parto che ne ho uno Ne abbiamo preso Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette Finiti? No, 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 me ne insegni ancora, me ne insegni ancora, me ne insegni ancora Com'è possibile? Allora, su sette che ne ho preso sono a ventidue Oh mio Dio Cavolo, io sai quanto sono? Sono andata a quindici Avevo pure gli altri, quindi non mi è andata poi così bene Ho trovato un'altra fonte di diamante a fianco Totalmente a fianco Ma che noia Io non sto più trovando nulla, ti dico la verità Trentanove diamanti No, questi sono i lapis Non vogliamo i lapis, grazie Non li vogliamo Trentanove Ne ho visto altri Aspetta Me ne ha segnato altri Non ci credo Hai trovato la fonte infinita, Steph, dai Sì, sì, sì Mettila, vattene da lì Per parcondicio vattene Vattene, no Vattene per un po' e poi torni Ok? Beh Sì, anche perché devo andare a prendere l'altra fortuna Altrimenti questi li spreco Sì Come risalgo? Mi son perso Perché io sono arrivato qua scavando La cosa difficile è anche trovare la strada del ritorno È vero È vero che non è una cosa banale quella Non è per niente Io non sto trovando più niente di niente Non mi li segna neanche alla lontana Proprio È 0 di 0 Da qui? Oddio No, con solini non mi ricordo la strada Non è possibile Io non so come tornare su Non ne ho Oh, l'ho trovato Perfetto Ma come? Hai fortuna pure in quello però, Steph Non vale Il fatto sia 25, eh? O no? No, io sono ancora 15 Perché non ne ho più trovato altri Te l'ho detto Sono ferma a 15, Steph Ok Quindi non farmi niente niente per favore E smetti, ok? No E continua a non studiarmi nulla però No, smettetela Ferre mi stanno assaltando i mostri Ogni volta che vai fuori È sempre note E ti fanno gli assalti Ok Ok Quindi ne devo mettere qua 25 Allora facciamo dividere a metà Poi Le ne diamo ancora un po' 24 25 Ci prendiamo La fortuna Steph io sono in una parte della minera vuota Te lo dico La fortuna 25 E ne abbiamo ancora 14 Ferre? Perché da due ore non trovo più nulla Quindi sono in una parte vuota No, sono vuota Cioè non so più dove andare Mi sono persa Non so più dove sono Capisci? Sai quanto mi dispiace? È un po' un problema Pochissimo Pochissimo Proprio pochissimo Me ne vado via Me ne vado via Ma io Non mi ricordo come tornare nel posto che avevo trovato però Vogliamo parlare di questo problema? Dovevi lasciarti un segno Tipo Una scia di easy Ma non so Tipo È come se io fossi andato Forse qua sotto? Eh beh Forse sì Forse sì Forse ho ritrovato Ok qua c'è Ma Ho trovato dei diamanti senza usare la bussola Ma come? Giura Ma pure Sì sì Ma sei una vergogna Quindi Fortuna 25 Mi ho 14 Mi ho preso Uno Due Tre Sta esplodendo tutto qua Da 14 a 43 No io sto proprio bloccata Io ti seguo No Sì Dove sei? Non mi vedi? Eccomi Eccomi Dove sono i diamanti? Vedevo la tua scritta Quindi ho detto Devi essere Allora Nel mentre Voglio far vedere una cosa Ah no vabbè I consigli non vedo Non c'è bisogno di farli vedere al telefono Comunque siamo a 7 minuti e 45 Quindi siamo più o meno a metà della sfida E Fede ha deciso di venire a rubare Il mio duro lavoro Guarda ti metto anche Anche guarda Le torci Ah grazie cara Ti faccio luce Dai dove sono i diamanti? Non sono qui Tranquilla Ha visto il segno? Fere Fere ti devi togliere Fere mi arrabbia tantissimo Sono sotto Sono sotto Eccoli Eccoli Aspetta il piccone della fortuna Il piccone della fortuna Se non lo vale Smettila Sono qua Smettila Ascolta da me erano finiti Steph scusa No battere Me li stai rubando Tu li stai rubando a me Fere ci siamo incastrati Sono a 18 Ne ho presi 3 Steph Accidenti a te Dammi lì Io sono a 64 Eh appunto Dammi i miei Chi ci sta picchiando? Sei stato tu? Sì Sto morendo Sto cercando di riservare Come? Mangia Eh adesso mangio Ma mi hai fatto malissimo Allora aspetta 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 Fermati un attimo No me ne va Allora quanti sei? 18 1 2 3 4 5 6 E 7 Giusto perché così Non viene a prendere i miei Mentre prendo vantaggio No tornerò Tornerò Sì ma nel momento Devi andare a prenderti Il nuovo piccone Capisci? Io non ho idea Da dove si vada da qui Allora Ma cavolo si esce da qui Da qui E Fede devi fare un casino Incredibile Sì lo so Siamo andati troppo in basso Sì sì Esattamente Eccomi 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 Allora Qua sotto Ah dove appena Scusa sono caduta Stef è difficile Non si capisce dove deve andare Ed è pieno di buchi Perché abbiamo scavato a casaccio Quindi è strapieno di buchi Ma che spettacolo Non so dove sto No cioè mi sto persa Stef Allora Aspetta Dove è l'uscita? Non ho idea neanche io Quello è il problema Dopo è l'uscita? Non lo so Fede Come si torna indietro? Forse è qui? No No perché non abbiamo scavato In quella direzione Non c'è un buco Con cui possiamo essere passati Cioè qua si va solo in basso Quindi è impossibile Forse è acqua Fede Trovate Stef Meno male Altrimenti non ci sarebbe stata più sfida Che ansia Che ansia Allora 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 Dato che qua è pieno di lava Stef se ne va un po' in giro Aspettate Non voglio rischiare un salto Che se bruciano i diamanti Stef ha trovato qualcosa Io se mi vendico Stef ha trovato qualcosa Aspetta La prima mangio E poi mi vendico Bisogna avere la pancia piena Per la vendetta Che cosa Sono proprio dei diamanti belli Uno Due Tre Ok ok Mi sta segnando qualcosa Opla Ops Stef è a più di 120 Stai zitto Eccoli eccoli Andare a prendere la fortuna 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 Aspettate che tolgo questi Che se no mi danno fastidio Cioè guardate quanti me ne ha dato Non ci posso credere Come tornavo a casa Dai che devo prendere il piccolo Ok me ne segna altri Dai che devo andare a prenderlo Non di qui Ok perfetto Perfetto Eh forse è qua Sono appena caduta nella lava Ce li avevo eh Ce li avevo Molti Ci fermiamo così Mi sa che sono passati 15 minuti Ok E non esco Quanti diamanti hai Dimmi un po' Uno No è una brutta sfida L'ho organizzata male Sinceramente fa davvero schifo Ti dico la verità Ma non è vero Fa davvero schifo Era molto carina Perché sono caduta nella lava Senza vederla Perché ovviamente avevo trovato dei diamanti Quindi ero felicissima Di piccolare Non ho visto che c'era la lava sotto E quindi non guardavi nient'altro No perché allora Sono scesa Capite Se quando scendi hai solo un blocco di distanza Scavi tu i piedi Certo Io ho scavato i piedi E c'era la lava sotto Capisci Quindi mi è andata proprio male Basta Io rimango qua Non esco più E rimarrò per sempre in questa caverna Questa è una cosa che faremo in comune A sperare di trovare i miei mille diamanti Perché io mi son perso Quindi entrambi resteremo nella caverna In ogni caso Io sono arrivato a 35 diamanti E ho comprato comunque quello da 100 Quindi teoricamente ho preso Tipo una roba come 200 diamanti In questa sfida Quindi Stefanotto Ha vinto È molto felice Ferre non è altrettanto felice Vinci ma fai schifo Mi son perso nella miniera Quindi ci fermiamo qua nella miniera Vabbè No rimango qui per se Basta Non esco più Ragazzi Sentici un like Questa è una volta che vedete il nostro video Potete considerare Lì da iscrivervi Per non perdermi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao Ciao Ciao